Se vi siete già fracassati i marroni di vedere questa puntata di Crazy potete tranquillamente scriverci e mandarci a fanculo come di solito succede Da tutto il sistema solare perché ormai basta avere un computer e salutiamo le Zeppelin, grazie di essere stati qui con noi Vogliamo ricordare la data? Noi suoneremo una domenica pomeriggio e la data arriverà a breve, ve la faremo sapere sui nostri social Usate i social? Eh certo, certo oramai Facciamo, e sarà alla discoteca, balera, champagne, sarà una domenica pomeriggio E mi raccomando, ingresso gratuito per chi mostrerà la dentiera Perfetto Rock TV, in onda su Sky, canale 718 E in free streaming su tutti i device su livestream.com slash rocktv slash live